Sui elicotteri dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza da oggi ci saranno 13 contenitori termostabili per il trasporto di emocomponenti. Nel caso di un sinistro stradale sarà così possibile, direttamente sul posto, effettuare trasfusioni di globuli rossi concentrati e plasma al paziente in sciocche morragico. Un'operazione che di norma, se tempestiva, è in grado di salvare vite. La fondazione Pro-Eli Soccorso ha donato ad Areo una fornitura di strumentazioni che saranno impiegate nell'ambito del progetto Bob Blood on Board, in italiano sangue a bordo. La donazione, resa possibile grazie al ricavato delle vendite del libro Missione Paziente, Nascita e Sviluppo dell'Eli Soccorso in Lombardia, si è svolta oggi durante l'incontro nella base dell'Eli Soccorso e del 118 di Villa Guardia, in occasione del decennale della struttura Comasca. Il progetto, ha spiegato Francesco Daminelli, medico elisoccorritore e tra gli ideatori del progetto Bob, prevede l'utilizzo di contenitori isotermici già in uso in ambito militare, in grado di garantire la conservazione di plasma e globuli rossi a temperatura corretta e costante, anche in condizioni ambientali estreme. Inoltre, gli emocomponenti vengono riscaldati durante la trasfusione sul luogo dell'incidente, allineando così la qualità della cura pre-ospedaliera dello shock emorragico ai più moderni standard internazionali. L'Eli Soccorso Lombardo ha sottolineato poi Alberto Zoli, direttore generale di Areu, è un modello di riferimento a livello non solo nazionale, parole che confermano nel panorama dell'emergenza sanitaria lo sforzo mostrato a fare ricerca e sviluppo. Grazie a tutti.